Rullo di tamburi sul sipario sulla nuova stagione di calcio a 5. Si parte questa sera in anticipo esordio ufficiale per il CLN Cusmo Lise nel torneo di A2 Elite. In terra calabra contro la polisportiva futura. Domani start anche al massimo campionato nazionale di futsal, quello di A1. Esordio assoluto per la società molisana nel nuovissimo torneo di A2 Elite. Una prima storica per il Cusmo Lise protagonista nel girone B, trasferta lontana precisamente a Motta San Giovanni, città metropolitana di Reggio Calabria, contro la locale squadra che ha chiuso al quarto posto la scorsa stagione nel girone C di A2. Gara subito complicata per i ragazzi di San Gennario, come d'altronde si preannuncia a tutto il campionato che secondo gli addetti ai lavori sarà livellato verso l'alto. D'altronde la Serie A2 Elite nasce dalle migliori società di A2 della passata stagione, una selezione voluta dalla divisione Calcio A5 per aumentare la qualità delle società del futsal italiano. Il Cusmo Lise è pronto per l'esordio nonostante un precampionato che non ha lasciato indicazioni positive dal punto di vista dei risultati, un percorso di assestamento messo in preventivo dallo staff tecnico dopo la partenza del tuttofare Barichello. Siamo certi che a partire da questa sera vedremo un'altra versione del Cusmo Lise con la speranza di iniziare la stagione con un risultato positivo. Ricordiamo che in seguito alla prima giornata le squadre di A2 Elite torneranno in campo il 13 e il 14 ottobre con una sosta in programma per le gare delle nazionali di Calcio A5. Questa sera, prima anche per il torneo di A1, la giornata si chiuderà domenica con il big match tra Little Service, Pesaro, Di Scarpitti e i Piemontesi dell'L84. Campionato che si preannuncia in grande equilibrio con un lotto ampio di pretendenti alla vittoria dello Scudetto, come le due squadre da poco citate a cui si aggiungono Eboli, Fortitudo, Pomezia, Meta, Catania e Napoli. Ancora 15 giorni per l'esordio dello Sporting Campobasso nel torneo di Serie B. L'esordio dei Rosso-Blu diretti da mister Pietrunti è atteso per sabato 14 ottobre alla palestra Sturzo contro il Sulmona. Dopo l'ottima affermazione dell'Under 23 a Casagiove, la prima squadra prosegue gli allenamenti con diverse sedute tattiche, utili per curare ogni minimo dettaglio per la nuova avventura nel torneo cadetto.